E' il traccetto rievoca, rievoca remember, rievoca ricordi, è perché qui sto passando nella ridente di fronte alla ridente località che chiamasi Green Rock. Questo non è Green Rock, non Green Rock, Green Rock, verde rocca, verde rocca, perché abbiamo Green Rock, foce verde, ma abbiamo anche Green Rock, verde rocca, stupenda, un po' come in Manhattan, uguale 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 uguale, e qui nella palazzina. 3, mica mi ricordo, sesto piano, il primo ufficio agenziale. Ebbene sì, la prima agenzia non è stata il framing, non trovavamo il locale, all'epoca aveva un socio e abbiamo preso un ufficio in questa ridente palazzina. E' codello, ridente, sesto piano, e secondo te sto male, 800.000 lire al mese l'affitto. Si pompavano proprio i giorni come fosse petrolio. Ci è andata bene per qualche anno, poi ci spostavamo in collina, ci voleva lo skift per andare a Fleming. Ma Green Rock ha detto la sua. Ogni mattina, con il Porsche 3000 SC del 1982, senza aria condizionata, ha detto anche Bagnoturco, mi negavo qui con lo skiftazzo di coserina. Producevo come un animale. Le profissioni sul vita erano al 70%, oggi sono al 20%. E secondo te stavo male? La giornata di lavoro l'avevamo come 5 di oggi. C'era molta più mossa e quindi era molto più facile vendere. Ma che favo? Se lamentavo? No. Stringiamo la cinta, che ne è manco tanto corta, e andiamo avanti. Viva la vita! Ci va per tocco magico per Fleming Polizzi oggi.